bella a tutti ragazzo da birko bentornati su gameplay già nelle su project hospital allora ragazzi partiamo subito col dire che il monitor ha iniziato a funzionare io con sti monitor ragazzi veramente non so più che cosa fare ho provato a togliere il tavolino ho rimesso nuovamente il monitor gli ho messo l'obliteratrice diciamo la macchina per i biglietti quella vanilla non mi ha funzionato intanto che giocavo off camera assolutamente non mi ha funzionato mai nella vita dopodiché casualmente ha iniziato a funzionare adesso che ho iniziato diciamo che ho ricaricato la partita quindi non lo so probabilmente per farli funzionare dovete forse ricaricare la partita non lo so fino adesso non ha mai funzionato ma ho ricaricato la partita appunto per registrare questo video e ho notato che funzionava il monitor vabbè lasciamo stare stendiamo un velo pietoso su questi monitor che ormai ci ho fatto l'abitudine allora che cosa ho fatto off camera io off camera ho fatto un po di cose intanto stavo guardando ok laboratorio di istologia si servono servono un che cosa è nei laboratori e va bene allora io intanto ho fatto off camera per l'appunto altri laboratori e degli altri ambulatori diciamo normali quindi ho fatto un nuovo ambulatorio per cui adesso ne abbiamo 11 di ambulatori medici perché comunque c'era lo stesso parecchia attesa e poi anche nella parte dei laboratori in realtà ho tolto il laboratorio aggiuntivo che avevo fatto quello ematico perché ne avevo già un altro qua ed erano effettivamente troppi perché il problema mi sono reso conto che ovviamente l'attesa sulle analisi non era solo a carico diciamo di questo laboratorio ma c'era anche quest'altro laboratorio ovvero la microbiologia e l'istologia che comunque sono anche questi laboratori che servono molto appunto per le analisi di feci e quant'altro e di conseguenza non tutte le analisi ovviamente non le fa solo questo laboratorio ma anche gli altri due siccome degli altri due ne avevo solo uno per tipo ho deciso di raddoppiare per dare una mano per l'appunto nelle analisi infatti vedete che appunto questi diciamo pazienti avevano un'attesa un po più lunga per il discorso dei laboratori però adesso vedo che piano piano li stanno portando perché ad esempio lui sta facendo la dialisi insomma tante cure le fanno in questi laboratori quindi ho deciso ovviamente di raddoppiarli un attimino poi ho aumentato anche questi altri che sono aspettate eccoli qua praticamente l'unità di ecografia e l'altra cos'è che avevo messo no allora questa è l'ecografia sì e questa qua che cacchio di cosa era non mi ricordo non mi ricordo assolutamente cos'è questo vabbè unità di agnostica non so se l'unità di agnostica no 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 che cacchio sto facendo ok fai così perfetto questo qua che caspita di ambulatorio è l'ho fatto ma mica mi ricordo cos'è che dovrebbe essere sì no dovrebbe essere l'unità di agnostica esatto esatto così ne abbiamo due sì mi mancherebbe un'ulteriore unità di cardiologia che ne ho solo una però per il momento non ho una grande attesa nella cardiologia e quindi non l'ho fatta infatti vedete che anche la persona che per l'appunto lavora adesso sta eseguendo l'elettrocardiogramma però tendenzialmente è sempre abbastanza libera come carico di lavoro quindi non mi sembrava il caso di raddoppiarla per il resto comunque stiamo andando bene ho tolto la parte dell'accettazione qua all'ingresso del pronto soccorso so che mi avevate detto appunto che diciamo non vedere l'accettazione del pronto soccorso non era bello però in realtà non la usavano e quindi era sempre vuota per cui avevo del personale che pagavo per niente perché era inattivo giorno e notte e anche la sala attesa era comunque sempre vuota inoltre quando l'ambulanza scarica siccome io ho fatto la stanza diciamo così di prima necessità cioè adesso non mi viene il nome preciso comunque questa è la stanza dove per l'appunto quando arriva un paziente in condizioni gravi con l'ambulanza viene portato immediatamente qua perché in questa stanza diciamo fanno un primo soccorso e quindi una sorta di terapia intensiva immediata insomma d'urgenza qua danno le prime cure più urgenti e poi vanno a smistare per l'appunto i pazienti nei vari reparti dove servono di conseguenza le barelle passando qua mi passavano in mezzo all'accettazione non era era ancora meno bello da vedere quindi a sto punto visto che tanto qua non serviva assolutamente a nulla ho deciso di toglierla così almeno le barelle passano tranquille qua non ci sono diciamo locali pubblici tra virgolette perché sono tutte sale infermieri magazzini e quant'altro quindi non crea fastidio a nessuno allora lui sta aspettando appunto le analisi delle urine che in questo caso lo fa il laboratorio di istologia quindi vabbè adesso c'è una lunga attesa comunque perché come detto gli esami ovviamente sono le cose che vanno di più quindi eventualmente ho ancora spazio magari per fare un ulteriore laboratorio di istologia qua e poi volendo mi posso comunque allargare ulteriormente sul retro e poi nella parte superiore nel piano superiore devo fargli allora il bagno qua ce l'hanno in realtà quindi perché qualcuno mi aveva detto di fare il bagno anche in questa zona ma in realtà il bagno c'è già piccolino ma comunque c'è per cui in realtà ce l'abbiamo il bagno posso farne magari uno un po più grande eventualmente per evitare che diciamo medici e infermieri che sono in questa zona debbano andare fino a qua per andare insomma a spicciolinare o a fare o a fare quello che devono però comunque lì il bagno c'è come detto piccolino ma c'è poi magari ne facciamo un altro un po più grande poi altra cosa ragazzi che ho aggiunto sono i due dlc che mi mancavano ovvero la traumatologia che dovrebbe essere questa qua esattamente questo è tutto il reparto di traumatologia con l'ulteriore ricovero tra l'altro comprando questo dlc abbiamo sbloccato anche dove cacchio sta era qua nella parte dell'ambulanza abbiamo sbloccato anche l'eliambulanza ovvero l'elicottero adesso devo andare al piano di sotto per farvelo vedere eccolo qua questo è per l'appunto l'elicottero quindi dovrò fare anche uno spazio per l'appunto per l'elicottero vorrei chiaramente farlo sul tetto ma il problema è che mi vorrei alzare ancora almeno di un piano perché sennò tutti i reparti non mi ci staranno mai e poi mai nella vita inoltre ho preso anche per l'appunto il dlc con il dipartimento di malattie infettive molto interessante perché come vi avevo già anticipato la diciamo il ricovero delle malattie infettive ha anche ovviamente il reparto di isolamento per cui se ci sono casi diciamo di malattie contagiose chiaramente serve un reparto di isolamento per evitare che ci infetti tutto l'ospedale quindi anche questa è una cosa veramente molto molto interessante però quest'oggi io volevo iniziare quantomeno a fare il reparto di ortopedia perché insomma così andiamo anche a curare un po di ossa rotte e quant'altro e andrei a questo punto sempre di qua sfruttando questo spazio volevo fare qua il ricovero dedicato appunto all'ortopedia con qua tutte le sale che gli servono infermieri sala medici eccetera e qua le sale invece diagnostiche quindi l'ambulatorio principalmente e basta magari posso fargli eventualmente un'altra sala visitatori sempre in questa zona qua quindi iniziamo a fare intanto la parte della clinica per cui l'ambulatorio di ortopedia lo farei qua andiamo a prendere un dottore ovviamente specializzato in ortopedia questo addirittura il nuovo questa anzi al 90 per cento assolutamente scelgo te e ne prendiamo un'altra per la notte potrebbe essere questa che insomma è 99 addirittura medicina generale diagnostica 88 diagnostica avanzata la be zero però 85 in ortopedia quindi se beh questa però 89 in più anche la diagnostica avanzata no allora a sto punto prendiamo assolutamente lei perfetto così almeno anche il nostro reparto di ortopedia ce l'abbiamo benissimo abbiamo sblocato anche l'obiettivo dei 90 pazienti al giorno ok quindi va beh qua mi da solo candidati non mi ha dato soldi a mi avete chiesto come ho fatto avere così tanti soldi io non ho fatto niente di strano sinceramente cioè l'unica cosa che vi posso consigliare soprattutto all'inizio è quella di mettere tanti ambulatori normali perché inizialmente quello che andate a guadagnare proprio diciamo sul sugli ambulatori normali perché ovviamente inizialmente diventa difficile fare già subito reparti specializzati perché ovviamente costano un sacco per cui fate tanti laboratori e questo ogni volta che arriva qualche paziente vi paga poi ovviamente con le assicurazioni vi danno premi soprattutto le prime in denaro che vi servono ovviamente per espandere l'ospedale poi io inizialmente avevo fatto anche dei prestiti che adesso chiuso però ovviamente all'inizio dei prestiti li dovete fare per forza quindi allora il lettino richiesto ecocardiografia e va bene far l'ecocardio ma mi sa che occupato si è occupata la cardiologa va bene intanto è arrivata anche una nuova ambulanza quindi vediamo un attimo cos'è che ha questa una ferita aperta un'emorragia grave addirittura e ha un sacco di cose al pancreas gastroscopia occupato e vabbè aspettate un attimo che volete tra l'altro vedete che adesso mi entrano direttamente di qua probabilmente perché avendo il passaggio libero vanno direttamente qua ed effettivamente ha più senso questa cosa tant'è che quasi quasi a sto punto io potrei anche spostargli il parcheggio dell'ambulanza direttamente qua ah me lo sposta perfetto ok scusate non lo sapevo glielo mettiamo un po più centrale così almeno mi scaricano qua entrano dirette diciamo nell'area per l'appunto di emergenza così almeno sono decisamente più comodi devono fare meno strade qua rimane comunque un'altra entrata barra uscita che può in ogni caso sempre servire allora torniamo al piano superiore devo fare anche delle finestre ma lo so ragazzi quelle le far off camera così adesso non sto qua a impegnare tempo diciamo semplicemente per mettere delle finestre tra l'altro stanno funzionando anche questi ambulatori che è il dipartimento questo di medicina generale lei ha una pleurite ok quindi è insomma l'infiammazione della gola dolore toracico perdita di peso tachicardia quindi vabbè dovrà essere ricoverata per forza e dovranno fargli degli antibiotici endovena ragazzi ma qualcuno che me pulisce qua però mazzo il ricovero è quasi quasi pieno è porca miseria quanta cacchio di gente che abbiamo ok allora qua direi che hanno tutto quindi a questo punto andiamo a prendere dei dottori per cui intanto prendiamo qualche specialista in ortopedia assolutamente lui ed è anche anestesiologa ok dovrebbe dirsi così dovrebbe essere corretta la pronuncia quindi anestesisti li abbiamo adesso me ne serve un altro bravo sicuramente in ortopedia che voglio tenere anche di nota vabbè questa 63 secondo me potrebbe andare bene quindi ci manca un chirurgo per cui andiamo a prendere un chirurgo però che sia che sia bravo possibilmente perché questi qua fan tutti ma fan tutti schifo e dai uno un po bravo c'è questa 47 e però 47 non è che sia che sia tantissimo uno un po meglio no 24 20 35 40 41 sto spendendo una fraccata di soldi per fare il refresh ma cioè 2005 ogni volta e vabbè senti prendi questa che è 44 che devo fa e poi mi manca ancora un altro dottore che lo prenderei sempre di giorno di notte secondo me uno per adesso basta dai prendiamo questa che ha 57 c'è questo questo nicolò e comunque anche un chirurgo quindi direi che va bene perfetto allora il reparto ce l'abbiamo completo ottimo quantomeno in termini di personale ci manca ovviamente reparto di agenza reparto ts quindi terapia subintensiva l'unità di ecografia che comunque anche questa farei e ovviamente la sala operatoria ok ragazzi allora ho completato tutto il reparto di ortopedia mi manca solo no il reparto di degenza aspetta ciccio te l'ho fatto io il reparto di degenza che mi stai a dire cos'è che ti manca ah no scusatemi ecco mi mancavano giusti vetrini da laboratorio qua insomma le provette le cose da mettere sugli armadietti che ho messo per l'appunto qua comunque ho fatto il reparto diciamo così di degenza uguale fondamentalmente a quest'altro l'unica cosa che c'è di differenza che gli ho messo dei letti decisamente più comodi questo perché va bene insomma reparto di ortopedia arriva con le ossa rotte almeno facciamo listare un attivino più comodi per il resto ho messo praticamente le stesse identiche cose quindi il reparto di ortopedia a questo punto funziona in maniera assolutamente corretta vorrei solo fare giusto qua al fondo una piccola stanza visitatori a questo punto la faccio direttamente qui così almeno ne abbiamo due e siamo a posto così una interessa quell'altro reparto quella che ho fatto qua mentre qua invece abbiamo appunto quella dedicata al reparto di ortopedia quindi andiamo a fargli questo andiamo a mettergli semplicemente una porta no dammi questa qua secondo me va benissimo e dentro gli mettiamo semplicemente le varie seggioline quindi tac facciamo così facciamo così gli mettiamo un po di seggiole perfetto gliene posso mettere anche qualcun'altra qua ok eventualmente gli possiamo mettere anche un divanetto qua sul fondo benissimo gli mettiamo magari un tavolino e gli posso mettere sopra anche delle bevande così magari si si sbevazzano qualcosa gli metterei anche un distributore di medicine che comunque può essere utile così insomma se devono comprare qualcosa a livello di medicina almeno ce le hanno diciamo comode c'è camilla esposito che mi sta collassando ok quindi andiamo a capire un attimino che caspita c'è quella che è arrivata con la ferita aperta uno shock ipovolemico e ha un'emorragia grave una lacerazione polmonare addirittura potrebbe essere insomma potrebbe essere tante cose adesso stanno cercando ovviamente di salvarla il dipendente si ubriacato la scorsa notte che palle ancora stasara bianco stavolta va bene dipendente non ha una postazione di lavoro e perché non è una postazione di lavoro ti licenzio e siamo a posto ok quindi dovrebbe essere dovrebbe essere a posto si vede che non aveva ancora qualcuno di quando ho eliminato il laboratorio quello grosso e vabbè lunga attesa per una visita vabbè ci sta però abbiamo comunque zero pazienti vabbè adesso si è resettato non ho visto prima ma non mi pare che se ne sia andato comunque nessuno ci sono attese un po lunghe però vabbè d'altronde insomma l'ospedale è bello pieno ci arrivano 90 persone praticamente quindi più le varie emergenze insomma ci sta che ci sia un attimo d'attesa anche perché vabbè in tutti gli ospedali alla fine ce l'ha attesa per cui direi che è una cosa anche abbastanza normale magari qua come detto andrò a fare l'altro laboratorio che serve distologia che ho visto che comunque lavora parecchio così almeno siamo un attimino più operativi anche da quel punto di vista allora sono contento per il piano superiore perché sta andando comunque bene adesso abbiamo qua diciamo tutto il nostro reparto completo appunto anche di ortopedia vediamo poi naturalmente se inizierà a funzionare penso dalla prossima giornata perché ormai vabbè è mezzanotte e mezza qua sempre l'ecografia ok abbiamo una un'attesa lunga però in teoria in teoria anche l'eco fast sì e devo secondo me implementare ancora un po questi questi laboratori perché vedete anche l'eco fast il discorso dell'ecografia è abbastanza lunga come attesa quindi se riesco magari magari a dargli una mano non è un problema abbiamo anche aurora che ci sta collassando rottura traumatica della milza aia che dolore che dolore ha e questa qua che già ricoverata in terapia intensiva quindi vabbè devono fare adesso la trasfusione di sangue speriamo che ce la facciano a recuperarla speriamo davvero ragazzi speriamo vabbè comunque vediamo un attimo cosa succederà ero curioso di vedere quel reparto ortopedia in funzione ma come detto dovremmo aspettare sicuramente il giorno per avere un po' più di pazienti va bene ragazzi io comunque direi che per il momento per il momento mi posso fermare qui con questo nuovo video di cato a progetto hospital noi ovviamente andremo avanti con diciamo il nostro ospedale quindi con la costruzione dei vari reparti nell'attesa soprattutto di vedere anche i reparti nuovi che mi interessano particolarmente per insomma quelli dei dirsi soprattutto quello delle malattie infettive devo dire che penso sia una gran figata insomma dovremmo anche gestire appunto l'isolamento evitare contagi quindi potrebbe essere veramente veramente interessante detto questo ragazzi quindi io vi invito come sempre a sostenere questa serie lasciando un sacco un sacco di like condividete commentati iscrivete al canale se non siete iscritti attivate la campanella delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti youtube altassino grazie di sotto di ogni mio video detto questo giovinotti io vi ringrazio vi saluto e ci vi chiamo nei prossimi gameplay ciao belli